Il Montesilvano vuole dimenticare il KO all'extra time con l'alba adriatica, l'Avezzano intende vincere per approfittare dello scontro tra le inseguitrici L'Aquila e Giulia Nova. Al Galileo Speziale Antignani deve fare a meno di Vedovato, D'Agostino inizialmente di Leonardo Malocu, Mister Torti lascia in panchina Catalli buttando nella mischia, Bisegna con i soliti Pendenza e Dos Santos fischia Matteo Cavacini di Lanciano. Dopo una breve fase di studio la prima occasione è degli ospiti, su calcio d'angolo Zanon arriva prima di tutti ma di testa non inquadra la porta. Il Montesilvano gioca un calcio pulito e passa in vantaggio, Majorani trova il varco per servire Daka, destro formidabile che vale l'1-0 per la formazione di Antignani, secondo centro in campionato per il classe 2002 e verde oro sugli scudi passano soltanto 90 secondi e Malocu concede il bis dopo un assist perfetto di Bassi. L'esterno a tu per tu con di giro alla molo fredda senza pietà. Primo tempo di grande difficoltà per gli uomini di Torti, sugli sviluppi di un corner Marcedula ha la chance per il tris ma emula il collega Zanon e manda alto. Tassone sguscia sulla destra, Cioccolatino per Majorani che da ottima posizione calcia male. Sul finale di tempo Mister Antignani viene allontanato dal campo per proteste e contestualmente si svegliano i lupi. Gran botta di Donatangelo, Ubertini mostra i suoi riflessi, Dos Santos da due passi colpisce clamorosamente il legno, poi si alza la bandierina dell'assistente per fuorigioco del 9. Nella ripresa cambia totalmente il copione della gara. Il velo dipendenza mette in difficoltà la difesa di casa che alla fine libera. Mister Torti butta nella mischia anche Di Paolo e Blanco ma è da un errato disimpegno del Montesilvano che l'Avezzano colpisce. Dos Santos si presenta occhi negli occhi con Ubertini e riapre la contesa. Si gioca ad una porta sola con gli ospiti che spingono molto sulla fascia destra. Zanon diventa quasi un terzino aggiunto. Di Paolo arriva senza equilibrio all'appuntamento con il pallone. Ci riprova poco dopo in girata il numero 19 ma l'esito non cambia. Braghini crea scompiglio servendo Besana, destro in caduta e pareggio che si concretizza al trentesimo della ripresa. Grazie al terzino un giro di lancette e l'Avezzano completa la rimonta. E chi se non Mateus Dos Santos che da attaccante di razza raccoglie la respinta di Ubertini e con un pallonetto morbido riscrive l'esito del match. I padroni di casa non ci stanno. Barbarossa prova il gol della domenica di Girolamo risponde presente. Sul versante opposto Martin Blanco da un metro pecca di precisione nel più semplice dei tap-in. Termina 2-3 al Galileo Speziale. Un Montesilvano orgoglioso ma troppo basso nella ripresa si arrende alla capolista Avezzano che rimedia ad un brutto primo tempo grazie alla grande qualità dei singoli. Allora innanzitutto faccio i complimenti all'Avezzano perché ha un organico stratosferico. Dopodiché come ogni domenica mi preme dire sempre le stesse cose. Io non posso subire domenicalmente, adesso anche il mercoledì perché si gioca tipo la Champions League qua in Abruzzo, e già l'ho detto mercoledì scorso, errori arbitrali clamorosi che mi compromettono la prestazione dei miei ragazzi. Allora, dopo dieci minuti l'arbitro si è avvicinato alla panchina mia minacciando di fare tutti quanti silenzio altrimenti avrebbe cacciato tutti. L'altra panchina per 90 minuti ha fatto uno chalet, non si è permesso di dire una parola all'arbitro. Il numero dieci loro che si gira verso la tribuna già ammonito a dire parole a una signora, guardia linea a un metro, non è stato detto a niente, adesso io sono veramente stanco. Io sono stanco perché io alleno una banda di ragazzini che non possono subire tutti questi torti ogni domenica. Allora, innanzitutto, come ho detto ad Alba, voglio rivedere il terzo gol perché Dosanto si era in fuorigioco e come ho detto ad Alba, se sbaglio chiedo scusa. Ad Alba ha avuto ragione, tant'è vero che poi la sera sono state mi rimesse le immagini e non era né espulsione ed erano fuorigioco tutti e due i gol. Stasera lo rivediamo un'altra volta. Allora, se io sbaglio mi prendo la mia responsabilità e chiedo scusa, ma se io non sbaglio adesso sono stanco perché non è possibile che domenicalmente arriva qualcuno o ci caccia l'allenatore o ci cacciano i giocatori e si parla solo dell'Aguila e se dobbiamo vendere i giornali, dobbiamo fare trasmissioni per l'Aguila e l'Avezzano. Allora, le altre squadre lo dicessero, si fanno fuori tutte e quante. Io non vedo il problema dove sta. Ormai se ne hanno le tasche piene è inutile. È inutile che i ragazzini fanno una prestazione maiuscola perché non si può dire niente a nessuno dei ragazzini, hanno fatti soli complimenti anche perché se avete sentito la fine hanno esultato dentro lo spogliatoio. Quindi vuol dire che comunque hanno vinto contro una squadra forte. A me è solo quella la soddisfazione più grande, però sono stanco. Io ho 32 anni di pallone e cose del genere non le ho mai viste, mai viste. E qua è ogni domenica che sembra la stessa storia. Mister Torti, l'Avezzano possiamo dire che si è entrato con 45 minuti di ritardo sul campo di Montesilvano per una vittoria importantissima, soprattutto per via degli altri scontri diretti. Diciamo che avevamo preparato la partita per giocare sulle seconde palle come fa il Montesilvano. Al primo tempo non avevamo capito bene questo tipo di atteggiamento. Cercavamo di giocare, loro erano molto più aggressivi, ci aggredivano. Diciamo che poi la partita la stavamo facendo. Poi ha fatto un grandissimo gol d'Aka, il numero 9, e lì ci ha scombusturato un po' i piani. Subito dopo abbiamo preso il secondo gol e si pensava che la partita fosse mia. Ma questa squadra anche oggi ha dimostrato grande carattere, grande forza, grande cuore, grande qualità. Perché poi ribaltare una situazione del genere e sbagliare anche dei gol abbastanza, come si dice, tra virgolette clamorosi per chiudere la partita, questo dimostra che tu hai una grande forza. E quindi noi dobbiamo continuare su questa strada. Ci può stare, prendere gol, ma noi abbiamo una forza dentro la squadra, anche a livello caratteriale, che mi fa sperare bene, insomma, per il proseguire del campionato. Che cosa ha detto ai suoi all'intervallo? Di giocare, di cercare di sfruttare quelle che sono le nostre qualità. Nel senso che noi abbiamo un palleggio e poi abbiamo una forza d'urta davanti importante. Cerchiamo di sfruttare quelle che sono le nostre qualità. Io credo che nel secondo tempo la squadra, anche verso la fine del primo tempo, ci stava riuscendo. Nel secondo tempo penso che ci sia riuscito bene e penso che alla fine il risultato sia meritato.